Abbiamo il piacere di avere con noi Gino Gelmi, che è il coordinatore provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà, un gruppo che si sta costruendo proprio in questi mesi. A Gino Gelmi chiediamo di spiegare un po' l'attività di questo nuovo gruppo e in prospettiva quali iniziative intendete cogliere. Sì, più che un gruppo è un partito che si costituirà formalmente a ottobre attraverso tutta una serie di passaggi anche a livello locale e provinciale che ha come riferimento nazionale, come portavoce, Nichi Vendola e che si attrezza a diventare la novità vera di un panorama politico che sta dando pessima prova di sé, nel senso che mai come quest'estate la politica è diventata un teatrino distante dai problemi veri delle persone e della realtà che ognuno di noi vive. C'è necessità che nella sinistra, dopo una fase di sconfitte e anche di disorientamento, si costruisca una forza capace di interpretare valori vecchi che sono l'uguaglianza, il lavoro, la dignità del lavoro, che sono la libertà non declinata alla maniera di Berlusconi ovviamente che diventi questi valori vecchi, vengono però incarnati nella società di oggi che è molto diversa e molto cambiata e questo esige sia uno sforzo di riflessione ma esige anche una forte passione politica che metta assieme l'orgoglio di un'identità di sinistra che nella storia ha creato i presupposti anche della democrazia nel nostro paese ma che deve riprendere in mano questi valori senza tentennamenti, senza subordinate rispetto a una visione della vita che il berlusconismo ha fortemente compromesso nei suoi valori fondamentali. Io credo che anche qua in Bergamasca questa proposta che già ha trovato in Puglia ma un po' in tutto il paese dei grossi momenti di radicamento ci stiamo ponendo il problema di costruire questa forza anche sul nostro territorio con un congresso provinciale che faremo il 9 ottobre e con l'avvio in diversi territori, compreso la Valle Seriana, di un'organizzazione che ha la sede qua ad Albino e che diventerà punto di riferimento per tutti coloro che vorranno partecipare a costruire questo progetto. Ovviamente non è un progetto, non è un partito nel senso tradizionale perché i partiti anche come modello organizzativo sono diventati molto limitati in termini di partecipazione mentre questa è una modalità organizzativa che lanceremo in modo aperto. Non a caso anche ad Albino la scelta di star dentro in un percorso civico assieme ad altre forze sia della società civile ma anche col Partito Democratico evidenzia questa disponibilità a costruire non da soli ma insieme con altri questo percorso di alternativa.